Ehi, benvenuti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video! Finalmente posso dire che oggi iniziano i video Vlogmas! Eh sì, nel 2018 oggi siamo qui perché noi non avevamo ancora aperto il Samira's Family, ok? Ehi, la Samira's Family, scusate, sono molto emozionata e insomma ho deciso appunto di fare questi Vlogmas come fanno tutte le YouTubers e insomma ci vediamo per qualche ora, insomma ci vediamo, non lo so, però ecco stasera, poi vedremo. Eccomi qua ragazzi, sono di un po' qui, però sono sul letto, vi assicuro che è troppo bello stare sul letto. Ehm, come state? Spero che voi stiate bene. Dopo, oddio, a che ora avevo? Scusate, ma a che ora avevo fatto quella clip? Allora, ora sono alle 17, oddio, è un tempo di me, è un sesto, è quattro ore fa in pratica, ora ci stiamo. Ehm, niente, ci vediamo in cucina, arrivo. Eccomi qua in cucina, scusatemi, sono alle 18 alla fine. Ehm, queste... Ah, aiuto! Ah, no, perché ho avuto una foto di me carica e magari in me telephore con qua qua, qua sul sesto fino aca. Ok, e dopo che sape, che... E allora, io lo ho detto con un sacco, e dopo... E l'altro, 12 per tempo, ma io la ho usato ancora un po' poi la telephoto. La batteria. quindi sono una ragazzi come si può fare un pochino e poi ci sono un pochino e poi ci sono un pochino e poi ci sono un pochino eccomi qua ragazzi, sono andata solo in casa la cosa bella è questa lo schermo è sporco aspettate un secondo ok perfetto è abbastanza pulito adesso mi faccio un bel te caldo eh sì, il te del weekend allora vi porto con me a fare il te speriamo che regga ho paura, no aspettate che vado a prendere il cavalletto eh sì, quando mi dimentico pure faccio così, non lo so stranamente è così ma non ce lo so farmi non lo so stavate che sto per i due a tre alla porta e Natalia ormai si sta decidendo ora sono alcune in camera mia che bello qui ho il cavalletto cavallo cavallo sì sì, certo il cavallo magari non è così non è così oh Dio no no ok infortuna sono riuscita a prenderlo io stavo facendo diciamo una fanfare ultimi perché mi piace molto la cucina e soprattutto la cucina non è giusto aiuto ecco mamma mia sto cosa perfetto andiamo a fare il tè mamma il tè caldo it's tea time ma alle 18 conviene qualcosa e già mi preparo il tè eh sì che sembro sembro come in inglese quando si preparano cioè quando magari ora di me l'inca non lo so quando si preparano scusate ok che vi faccio il mio green tea aspettate ma la medicina no aspettate aspettate che levo questo e dai queste bottiglie che crollano attenti questo è la tisana ok ok questo è la tisana adesso prendo una delle pazze perché no scusate ok allora vi allontano un attimo prenderò una pazza perfetto poi l'acqua beh quello non manca mai che caos totale caos forse forse tanti per favore non l'acqua non l'acqua non l'acqua o ciao ho messo mezza tazza d'acqua e adesso prepariamo il tè normale che bevo a colazione quindi questo è il tè poi a me piace molto il tè zuccherato il tè ogni tanto balla ok ora aspettate dobbiamo che lo riscaldi questo è dentro il microfono questo lato e poi non vorrei ok ci siamo adesso la facciamo tra 3 mettiamo 1 2 minuti 3 2 1 perfetto e aspettiamo che si riscaldi che bello iniziare i primi vlogmas beh è logico perché mi piace fare queste cose in pratica beh voi sapete quali sono le mie passioni le passioni di youtube insomma ci sto crescendo con i miei channel sono contenta soprattutto perché quando una cosa ti piace davvero è una cosa scusate è una cosa bellissima e soprattutto quando ti piace proprio tanto aspettate allora dicevo che si ok ho fatto un sacco di clip questo video è scuro questo si è certo questo video mamma mia ragazzi sono riuscito a parlare vedete che è meglio allora questo video usciva un po' più tanti perché comunque oggi la storia di storia perfetto ok vuol dire che questo tè è pronto ma lo dobbiamo riscaldare ancora un po' perché vediamo se ecco tutte queste bustine cadono sempre mentre qui non so tutti tutti hanno una sfortuna con me ok vediamo se è caldo ma ma sì abbastanza aspettate che riscaldano ancora un po' perché per fortuna la manica non si è scaldata tanto poi preparo lo corrente che ovvero lo zucchero poi ci vediamo con il tè pronto ok il tè è pronto aspettate che vi preparo tutto all'occorrente allora come sono i raggiunti che non mi lascia di adesso dovete sapere che dovete sapere che ho sì lo zucchero ma siccome il barattolo è tipo di vetro quindi pesa abbastanza allora 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 mamma mia eccolo il cucchiaio lungo il cucchiaieno però lunghino perfetto il tè è pronto per fortuna adesso me la bevo me lo bevo aspettate che disastro aiaia ok mi sono stonata la mano e non vorrei non vorrei che il mio telefono si fosse una segretta sentate che vi metto la luna sentate che sto provando per una cosa poi adesso mettiamo lo zucchero come sempre perché a me piace il tè zuckerac adoro però dopo perfetto mamma mia mi scatta troppo questo questo mamma mi ha stonato la mano addirittura ragazzi perché comunque stavo tenendo la manica sto ancora lasciando così si infonda non so come dire perché non è proprio normale il tè e lo zucchero ok lo so sono vlogger adoro i granali di zucchero quindi ne posso già mettere come questo che fa ok anzi due perché poi ne metterò altri vabbè tanto non mi costa nulla allora mamma mia se questo tè non riuscirò mai a che farlo vabbè può stare così può andare va bene così tanto andare perché non è che sono una grande che si prepara sì magari mi preparo il tè ok però aiuto brucia ok lo metto un attimo nel piatto e mettiamo dello zucchero aspetta è l'ultimo oh no ho finito tutto no allora potrei dividerlo ok ok perfetto adesso mettiamo dello zucchero ok no cosa sto toccando allora ok poi il 5 aiuto devo anche essere interrogata in inglese quindi aiutatemi questo è il primo 1 2 3 e a volte 4 4 perfetto io adesso me la bevo si vi porto solo per questa mezza mezzo pomeriggio perché devo anche fare le tue spero che questo video vi sia piaciuto se è così per favore mettete il like iscrivete al mio canale attivate la campanellina per essere sempre aggiornati nei prossimi video io come sempre con il tè vi mandiamo un prestissimo bacio e al prossimo video ciao ciao